a quelli che mi dicono ma questa visione dell'economia è una visione utopica perché come si fa a fare a meno delle borse come si fa a fare a meno di tutto quel mondo che conosciamo da trent'anni beh intanto io non dico di fare a meno delle borse io dico di riequilibrare nella logica le cose per cui in questo momento noi abbiamo la finanza sopra di tutto che domina il mondo poi abbiamo l'economia sotto la finanza poi abbiamo la politica sotto l'economia io dico che in un mondo normale che è quello che tutti ci ricordiamo e chi è molto giovane prenda un qualunque libro di testo e vada a studiare la storia bene in un mondo normale c'è sotto tutto la finanza sopra l'economia sopra ancora la politica e sopra la politica ci sta una roba che si chiama morale che è stata tolta dal dibattito economico allora io dico che la crisi che noi stiamo vivendo non è affatto una crisi finanziaria come mi raccontano questa è una balla che ci stanno raccontando almeno dal 2007 2008 perché non esiste una crisi finanziaria di questo genere esiste una crisi di valori esiste una crisi di idee esiste una crisi di ideologia esiste una crisi che fa togliere dal dibattito politico la morale come se fosse giusto prima c'era una domanda ho letto lì dal video di un di un cittadino di un ascoltatore che dice quello che è successo in grecia che cosa ne penso io ecco è esattamente questo quello che hanno fatto alla povera grecia le banche tedesche e le banche olandesi che hanno preso dei soldi e conoscendo benissimo perché hanno fior di economisti che esiste una relazione lineare rischio rendimento e cioè dove c'è un altro rendimento c'è un altro rischio loro hanno giocato speculativamente hanno creato una situazione di debito privato raccontando una puttanata e cioè che un problema di debito pubblico quello che è successo in irlanda in spagna in grecia in portogallo in italia vedi scorrendo sono crisi da debito privato e dopo avere creato una crisi da debito privato e avere speculato sulle spalle della povera gente hanno fatto credere agli stati nazionali che noi dovevamo salvare i greci andando a raccontare che sostanzialmente noi dovevamo aiutare i poveri fratelli ai poveri greci cioè ai cittadini comuni a quel greco che piangeva davanti al banco ma ve lo ricorderete no ci sono le immagini televisive di un vecchio che non che a un certo punto draghi chiude i rubinetti del non può più prendere i suoi danali questo disperato mettiamoci nei panni anche di un anziano che magari che ne so problemi di salute non ho idea piange ma quello è un modo di intendere l'economia no e dopo avere fatto queste porcate perché non so che termine usare per raccontare questa accezione dell'economia che cosa facciamo salviamo le banche cioè salviamo le banche prevalentemente tedeschi olandesi che hanno speculato in quel in quel paese dopodiché anni dopo io leggo sulle pagine di un principale quotidiano italiano che si chiama il sole 24 ore dice la grecia brilla in europa fa un avanzo primario del x per cento e quindi adesso potrà ripagare prima il fondo monetario internazionale ma siete pazzi in un mondo normale dopo che tu hai fatto strage di cittadini perché per fare l'avanzo primario in un paese del genere significa che tu hai tagliato la spesa pubblica hai tagliato la spesa sociale hai fatto macelleria sociale hai svenduto il paese a degli speculatori internazionali esteri cinesi di ogni genere bene dopo che hai fatto queste maialate ti preoccupi della povera gente questo dovrebbe fare uno statista questi sono i discorsi che io vorrei sentire fare nell'economia non parlare di spread voglio sentire parlare di distruggere il modello capitalistico mondiale questo è il mio obiettivo perché quel modello lì che mette in un incidente della storia attenzione il capitale e l'accumulazione del capitale al centro dell'agire economico sostituisce l'accumulazione del valore che è un'altra cosa e sapete perché perché ci sono delle cose grazie a dio che non hanno prezzo come la libertà ecco questo secondo me è il senso dell'economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene